Simbolica posa della prima pietra del nuovo museo virtuale del Cammeo del Corallo, questa mattina l'ex orfanotofio della Santissima Trinità a Torre del Greco. L'intervento rientra nell'ambito dei progetti di sviluppo urbano PIX, programma integrato a città sostenibile, che riguardano la città di Torre del Greco. Gli interventi, che secondo il cronoprogramma dell'amministrazione dovrebbero concludersi entro fine anno, interesseranno parte del piano terra e l'intero primo piano della struttura. Il museo virtuale nasce da un'idea progettuale iniziale che era tutto improntato sulla digitalizzazione, per poi sfociare anche in un discorso di avere un luogo dove effettivamente andare a contemplare tutte quelle bellezze relativamente alle opere d'arte del corallo che poi si sono fatte durante i vari periodi della storia di Torre del Greco. Il museo virtuale quindi tiene conto di due elementi fondamentali. Uno è relativamente al discorso della digitalizzazione, quindi per dare modo alle persone di entrare proprio nell'ambito non solo delle lavorazioni del corallo, ma anche di contemplare le bellezze delle varie opere del corallo e del cammeo e poi di entrare anche, proprio toccare con mano la realizzazione delle stesse attraverso appunto la realtà virtuale. L'intervento prendere in considerazione una parte del piano terra della Santissima Trinità che voglio ricordare è un monastero importantissimo, di una valenza architettonica importante perché risale il primo nuque al fine del Cinquecento e quindi di per sé anche il contenitore del museo è una rilevanza storico-artistica. Ci saranno insomma delle sale allestite con grafica insomma dedicata dove ci sarà una completa immersione nella millenaria arte dell'incisione a cammeo e a corallo che diciamo contraddistingue Torre del Greco come un unicum nel mondo. Vogliamo fare in modo che questo museo possa perseguire gli obiettivi di essere aperto alla città perché il termine che noi vogliamo utilizzare è pervasione, cioè il museo che attira i flussi turistici e farà in modo di pervadere l'intera città perché avremo delle connessioni particolari con la città con dei segnali digitali che permetterà al turista di visitare e di avere la volontà e la curiosità di permanere a Torre del Greco. Con questo progetto si vuole convogliare tutto ciò che riguarda la lavorazione del cammeo e del corallo in un unico polo museale che possa garantire sicuramente alla cittadinanza ma non solo anche ai flussi turistici di poter fruire di questa lavorazione ma anche di tutto ciò che concerne il comparto del cammeo e del corallo di cui Torre del Greco ha una lunga tradizione. Torre del Greco risentirà sicuramente dei benefici dell'apertura di questo centro museale e quindi l'auspicio è quello di poter far sì che la grande fetta della popolazione e della città ma un grande pubblico possa accedere ai contenuti digitali e reali che questo museo vuole offrire alla cittadinanza. Oggi è un'altra data storica, si iniziano i lavori seri per la realizzazione del museo virtuale del corallo che potrà finalmente dare a una città un altro sito per fare in modo che chi viene a Torre del Greco scopra veramente e anche in modo virtuale che cos'è il corallo. Sarà collegato chiaramente con il museo del corallo anche della scuola dell'arte ma più complessivamente nella nostra idea anche la struttura della Santissima Trinità adibirla completamente ad un museo civico. Questo si unisce alla visione generale che abbiamo con i progetti PNRR questo è un progetto PIX giusto per comprenderci e per far capire il tipo di interventi che stiamo andando a fare sono interventi che noi facciamo con finanziamenti che ci vengano dallo Stato o dalla regione. Abbiamo tanta acqua che bolle in pentola speriamo che questo sia il primo di una lunga serie di inizi di lavori che andiamo a fare di qui a breve sul territorio. Grazie a tutti.